Non è detto che l'uomo cui succedono, una disgrazia dopo l'altra come Giobbe, sia abbandonato da Dio. Non è detto neppure che un piccolo di cui parla il Vangelo non possa diventare grande nel Regno dei Cieli. E non è pure detto che chi è fuori da qualsiasi appartenenza non possa agire a nome di Cristo. In fondo oggi la parola vuole abbattere tutti quegli stereotipi per cui pensiamo che ci sono situazioni in cui noi ci troviamo lontani un abisso da Dio. E gli stereotipi sono proprio questi, il fatto che una vita piena di disgrazie, di sofferenze, il fatto che ci si senta piccoli, fragili, il fatto che ci si sente non appartenenti a nessuno, sono quei luoghi in cui quasi Dio non abbia spazio. In realtà la parola ci vuole dire tutt'altro, proprio l'uomo pieno di disgrazie, sofferenze, prove, proprio l'uomo che si sente piccolo e quindi invisibile agli occhi del mondo, proprio l'uomo che non ha nessuno, non appartiene a nessuno. Lì c'è una presenza straordinaria di Dio. Che il Signore ci doni di fare esperienza di questa parola, perché è proprio lì dove pensiamo che Dio non ci sia, Lui è il fedele alla nostra storia. Buon amico.